Vieni pure qui con me Federica, a te il microfono, intanto benvenuta. Grazie, sono molto bellissima. Se sei emozionato tu che sei abituata a queste ribatte, figurati noi, mai avremmo pensato già prima di poter raccogliere una medaglia d'oro qui nel nostro paese. Che effetto fa avere davanti a te tutti i tuoi concittadini, gli amici, quelli con cui hai condiviso l'infanzia e chiedendo di vista crescere? È molto emozionante, mi aspettavo tanta gente, ma non così tanta, e sono contenta di aver portato il nome di barbello, diciamo, sul datio del mondo. Ti assicuro che la notte della finale in tanti ci siamo alzati per vedere quella gara, intanto mi fanno segno che forse grazie alla banda il nostro audio arriva un po' ovattato, aspettiamo quindi un attimo che finiscano di suonare.